Il 2020, oltre a essere il complicatissimo anno del Covid, è anche un election year per gli Stati Uniti, cioè un anno di elezioni. Nel novembre 2020, infatti, viene eletto il nuovo presidente degli Stati Uniti. È un evento particolarmente importante non solo per gli USA, ma in generale per tutto il mondo, perché gli Stati Uniti sono la massima potenza economica mondiale e quindi il loro ruolo e chi li guida influenza inevitabilmente un po' tutto il resto del pianeta. La politica americana è abbastanza complessa ed è molto complesso il modo in cui si arriva ad eleggere, a scegliere un presidente degli Stati Uniti. In questo video cercheremo di renderlo un po' più semplice. Innanzitutto, chi è un presidente degli Stati Uniti? Perché è una figura così importante? In America, l'America è una repubblica federale, il presidente degli Stati Uniti è il capo di Stato, quindi la massima carica dello Stato, e il capo del governo, il capo del cosiddetto governo federale. Il governo federale è quello che si occupa di tutta la nazione degli Stati Uniti, perché poi i 50 stati degli USA hanno il proprio governo locale anche. Quindi il presidente è responsabile del cosiddetto potere esecutivo, cioè della gestione del governo, delle funzioni esecutive del governo, ed ha anche il titolo di commander in chief, cioè comandante in capo, è ufficialmente il capo assoluto delle forze armate statunitensi, quindi dell'esercito. L'immagine che vedete qui è quella di George Washington, che fu il primissimo presidente degli Stati Uniti per due mandati, dal 1789 al 1797. Gli Stati Uniti in realtà nascono con la dichiarazione di indipendenza già molto prima, nel 1776, ma è soltanto nel 1789 che eleggono un presidente federale. Andiamo ad analizzare nello specifico quindi le funzioni e i poteri del presidente degli Stati Uniti, che ha detto soprattutto in America anche TOTUS, cioè President of the United States, è un acronimo. Allora, ha il potere esecutivo, come abbiamo detto, cioè da esecuzione alle leggi federali, cioè le leggi nazionali, quelle che valgono per tutti gli Stati Uniti. Nomina i funzionari federali dei diversi dipartimenti. I dipartimenti si occupano della gestione di specifici aspetti dell'amministrazione dello Stato, sono particolarmente importanti. Inoltre, il presidente firma anche ufficialmente i trattati internazionali, anche se ovviamente ha bisogno del parere consultivo e dell'assenso dei membri del Senato, per quanto riguarda le decisioni nei rapporti diplomatici con altri paesi. ha la facoltà di concedere la grazia, cioè di cancellare le pene, dei condannati per reati federali, cioè le persone che sono state condannate da un tribunale federale, quindi non da un tribunale locale di un singolo Stato, ma da un tribunale nazionale. Può rinviare i lavori di una delle due camere che formano il congresso degli Stati Uniti, il congresso è un po' come il nostro Parlamento. Le due camere sono la Camera dei Rappresentanti e la Camera del Senato. Inoltre, il presidente, appunto, avendo il potere esecutivo ed essendo in qualche modo un leader del partito che ha vinto le elezioni, stabilisce le direttive, cioè la linea, per quanto riguarda la politica interna del governo e anche la politica estera, quindi in qualche modo dirige i rapporti con gli altri Stati e i rapporti internazionali. Le funzioni del presidente degli Stati Uniti, anche il modo in cui viene eletto e viene scelto, sono stabiliti all'interno del secondo articolo della Costituzione americana, un articolo che poi è stato modificato da alcuni emendamenti. Il mandato presidenziale, cioè il tempo in cui un presidente eletto rimane in carica, è di quattro anni. Questi quattro anni partono dal cosiddetto Inauguration Day, cioè il giorno dell'inaugurazione ufficiale del nuovo presidente, che avviene il 20 gennaio dopo le elezioni. Le elezioni, che si svolgono principalmente nell'Election Day, nel giorno elettorale, avvengono il martedì successivo al primo lunedì di novembre, ogni quattro anni ovviamente. E sostanzialmente in questo giorno, in questo martedì elettorale, gli aventi diritto al voto si recano alle urne. Però in realtà in molti Stati degli Stati Uniti c'è la possibilità di votare anche nei giorni precedenti, o al di là del voto tradizionale nell'urna appunto, di votare ad esempio per posta o mediante il cosiddetto voto elettronico. La politica americana è segnata dal cosiddetto bipartitismo. Cos'è il bipartitismo? Si parla di un sistema elettorale dominato sostanzialmente da due grandi partiti. Ci sono ovviamente altre formazioni politiche, ma sono partiti che raccolgono un numero molto molto basso di voti. Quindi il sistema elettorale americano è detto bipartitico. I due grandi partiti che dominano la scena negli Stati Uniti sono il Partito Repubblicano, che è un partito di ispirazione conservatrice e identificabile con il cosiddetto centrodestra. Viene definito anche Grand Old Party, il grande vecchio partito in America. E il partito invece democratico. Il Partito Democratico è un partito progressista e liberale, identificabile sostanzialmente con il centrosinistra. I due simboli di questi partiti sono l'elefante per il Partito Repubblicano e l'assinello per il Partito Democratico. I colori corrispondenti sono il rosso per i repubblicani e l'azzurro per i democratici. Ora, normalmente saremmo indotti a pensare che il candidato che prende più voti diventa automaticamente presidente degli Stati Uniti. Sbagliato! Non è così, o comunque non è necessariamente così, non è sempre così. Per esempio, alle elezioni del 2016, cosa è successo? Hillary Clinton, la candidata del Partito Democratico, ha ottenuto 65,8 milioni di voti raccolti in tutti gli Stati Uniti, corrispondenti al 48,2% delle preferenze. Il suo avversario, Donald Trump, del Partito Repubblicano, ha ottenuto invece quasi 3 milioni di voti in meno rispetto a Hillary Clinton, ne ha riportati 62,9 milioni, corrispondenti al 46% delle preferenze, quindi quasi il 2% in meno rispetto a Hillary Clinton. Chi dei due è diventato presidente? Donald Trump, con 304 cosiddetti grandi elettori. Perché questa stranezza? Andiamo a vedere cosa è successo e cosa sono questi grandi elettori. Quando si va a votare, i cittadini statunitensi scelgono infatti 538 grandi elettori, ovvero i membri del Collegio Elettorale degli Stati Uniti. Ora vedremo che significa. Contemporaneamente, gli americani votano anche per eleggere i membri del Congresso, ovvero del nostro Parlamento, il corrispettivo del nostro Parlamento. Il Congresso americano si compone di 435 representatives, cioè rappresentanti corrispondenti ai nostri deputati, che vengono eletti ogni due anni, e invece di 100 senatori. Il mandato di un senatore dura per un totale di sei anni, quindi ogni due anni viene eletto un terzo dei senatori. I grandi elettori, queste 538 persone, dopo le elezioni a loro volta votano, a scrutino segreto, per un ticket, cioè una delle coppie di candidati alla Casa Bianca. La coppia sarebbe il candidato alla Presidenza e il suo candidato Vicepresidente. Quindi che significa? Che il Presidente degli Stati Uniti e il Vicepresidente vengono eletti con metodo indiretto, non vengono scelti direttamente dai voti dei cittadini degli Stati Uniti d'America, ma dai voti dei grandi elettori, che a loro volta sono espressione delle decisioni, delle scelte e del voto dei cittadini americani. Quella che vedete qui rappresentata è dunque una electoral map, cioè una mappa dei grandi elettori. Il territorio degli Stati Uniti d'America è qua suddiviso in base a 50 stati. A ogni stato è associato un numero che corrisponde al numero di grandi elettori eletti all'interno di quello stato. Che significa questo? Prendiamo lo stato di New York, eccolo qui, ha il numero 29. Il partito che ottiene la maggioranza dei voti alle presidenziali nello stato di New York manda al collegio elettorale tutto il totale dei grandi elettori espressi all'interno di quello stato. Quindi nel caso di New York 29 grandi elettori. Questo significa che sostanzialmente non importa la grandezza della superficie, dell'area di uno stato. Come vedete qui moltissimi stati della parte centrale degli Stati Uniti hanno numeri molto bassi perché sono stati molto grandi ma sono stati desertici, con poche città, con una scarsa densità di popolazione. E quindi sostanzialmente a questi stati spetta un numero molto molto basso di grandi elettori. Viceversa ci sono alcuni stati che hanno numeri molto alti, a cui sono assegnati numeri molto alti nonostante abbiano un'estensione media, medio-piccola. Perché? Perché è proporzionale questo numero alla quantità di abitanti all'interno di quegli stati. Quindi non conta la grandezza della superficie di uno stato ma conta piuttosto la densità abitativa e quindi il numero di abitanti. Il numero di grandi elettori può variare leggermente nel corso del tempo proprio in base alla quantità di popolazione presente in quel determinato stato. Questa è l'Electoral Map, ad esempio, delle elezioni del 2016. I stati in azzurro sono quelli in cui il Partito Democratico ha avuto la maggioranza, gli stati in rosso sono quelli in cui la maggioranza è andata al Partito Repubblicano. In ogni elezione americana c'è un numero magico che è il 270. 270 è la maggioranza assoluta di 538, cioè dei membri del collegio elettorale. Che significa questo? Che quando uno dei due partiti ha ottenuto una serie di vittorie sufficienti a raggiungere un numero di 270 grandi elettori nei vari stati conquistati, automaticamente ha vinto le elezioni, cioè porterà il proprio candidato a essere eletto presidente degli Stati Uniti. Ed ecco qui rappresentati invece i protagonisti delle elezioni del 2020. Abbiamo Joe Biden, che è il candidato del Partito Democratico. Joe Biden è stato l'ex vicepresidente durante la presidenza di Barack Obama, quindi dal 2008 al 2016, ed è stato scelto dal Partito Democratico attraverso le cosiddette primarie, cioè delle votazioni che si svolgono generalmente tra la primavera e l'estate, prima delle elezioni, all'interno di un partito. Kamala Harris invece è la candidata di Biden alla vicepresidenza. Sarebbe la prima donna a ricoprire la carica di vicepresidente degli Stati Uniti. Fino adesso nessuna donna ha mai ottenuto il ruolo né di vicepresidente né di presidente degli Stati Uniti. L'unico caso in cui una donna è stata candidata da uno dei due grandi partiti americani alla presidenza degli Stati Uniti è stato appunto nel 2016 con Hillary Clinton. E poi abbiamo Donald Trump, che è il presidente in carica dal 2016, ed è stato confermato come candidato del Partito Repubblicano. Una persona può ricoprire il ruolo di presidente per un massimo due mandati. Ecco, questa per esempio, a pochi giorni dalle elezioni, è una mappa elettorale degli Stati Uniti secondo i sondaggi, secondo le intenzioni di voto degli americani. Gli Stati di colore rosso sono quelli in cui i repubblicani hanno un vantaggio netto, in cui per tradizione sono particolarmente forti. Gli Stati in blu sono gli Stati in cui invece sono i democratici, c'è il Partito Democratico ad avere una storica tradizione e quindi ad avere un vantaggio irraggiungibile. Gli Stati di colore più sfumato, di colore più chiaro, sono quelli più contesi. 270 è sempre la cifra da raggiungere, facendo la somma degli Stati che potrebbero essere conquistati da un candidato o dall'altro. Ricordatevi che quando in uno Stato un partito ottiene una maggioranza, quel partito automaticamente conquista tutti i grandi elettori espressi da quello Stato, quindi ci sarà particolare attenzione per quegli Stati che esprimono un numero molto alto di grandi elettori. Esistono comunque delle piccole eccezioni, ad esempio il Nebraska, che vedete bicolore, perché lì non tutti i grandi elettori vengono assegnati a un unico partito, o anche il Maine, ma altrimenti, come dire, chi vince anche solo di un voto con la maggioranza in quello Stato, vince tutti i grandi elettori di quello Stato. Quindi le elezioni americane sono strane rispetto a come siamo abituati noi, per una serie di motivi. Per esempio, ci sono degli Stati, New York, eccolo qui, o la California, in cui per tradizione il Partito Democratico è fortissimo, ottiene maggioranze schiaccianti, così come invece ci sono stati, soprattutto nell'area del sud degli Stati Uniti, il Tennessee o il Kentucky, in cui per tradizione il Partito Repubblicano ottiene la maggioranza schiacciante dei voti. Quindi sono stati, come dire, solidi, sono per tradizione assegnati, con relativi grandi elettori, a quel determinato partito. Dov'è concentrata l'attenzione durante le elezioni americane? Nei cosiddetti swing states, cioè gli stati in bilico, sono detti anche battleground states, cioè gli stati che sono dei campi di battaglia, perché sono quegli stati in cui non c'è necessariamente una forte tradizione a favore del Partito Democratico o del Partito Repubblicano. Sono stati molto contesi, in cui generalmente i candidati vincono con un margine abbastanza ristretto di voti. Per cui attorno a questi stati si concentra l'attenzione del Paese intero e dei candidati in particolare, perché vincere in questi stati chiave, in questi swing states, in questi battleground states, diventa fondamentale per assicurarsi la presidenza degli Stati Uniti. Qui ne vedete rappresentati alcuni che corrispondono agli attuali swing states per le elezioni del 2020. Quelli in azzurro sono quelli in cui tendenzialmente i sondaggi danno in vantaggio il Partito Democratico, quelli di colore violetto sono invece alla pari, diciamo, i due candidati, quindi c'è una situazione di estrema incertezza. Ora, puntualmente, almeno da parecchi anni a questa parte, da diversi decenni anzi, l'attenzione quando si votano negli Stati Uniti si concentra sempre, prevalentemente, su una serie di stati che sono swing states. Quali sono questi stati? La Pennsylvania, che elegge 20 grandi elettori, l'Ohio, che ne elegge 18, il North Carolina, che ne elegge 15, la Georgia, ne elegge 16, la Florida 29. Ecco, Florida, Ohio, Pennsylvania, North Carolina sono quegli stati il cui esito è sempre molto incerto fino alla fine e attorno ai quali, dai quali, sostanzialmente, dipende poi l'esito di tutte le elezioni. Quest'anno, eccezionalmente, anche il Texas, che è uno stato per tradizione fortemente repubblicano, sembra essere abbastanza in bilico, cioè non c'è più un forte vantaggio per Donald Trump. Per il resto, sugli altri stati, tendenzialmente si sa già chi dovrebbe giudicarsi la maggioranza dei voti, i swing states sono quegli stati su cui l'attenzione martedì 3 novembre, nella notte fra martedì e mercoledì 3 e 4 novembre, si concentrerà al massimo perché dall'esito di questi stati verrà fuori il nuovo presidente degli Stati Uniti.